Buongiorno, sono Liliana Freddi, rappresento l'AIL di Genova e Liguria. La nostra manifestazione che si terrà tra 15 giorni, quest'anno è dedicata per l'assistenza domiciliare. Noi speriamo che con la vendita delle uova si possano ricavare tanti denari da poter pagare un medico e due infermiere per poterli mandare nella nostra residenza, dove noi accogliamo i trapiantati di millullo osseo, a fare i prelievi e le terapie invece di andare a fare il day hospital al centro di trapianto midollo osseo del San Martino. Quindi questa è una delle nostre priorità. Quindi mi raccomando, comprate l'uovo, sarà buonissimo e penserete a noi e penserete a quante persone farete del bene facendo questa offerta nell'acquisto del nostro prodotto. Le piazze, guardi, sono praticamente un'ottantina di piazze tra la Genova e la provincia e la riviera. Le troverete con il nostro manifesto che reclamizza l'uovo. Al costo di 12 euro ci sono uova sia fondenti che al latte. L'introito rimarrà assolutamente nella nostra regione. I denari che vengono raccolti vengono raccolti per il centro trapianti di millullo osseo e per i reparti di emato-oncologia della Liguria.